Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo ancora su Rogue Galaxy e dopo aver fatto sosta nel pianeta di Altissa, se non mi ricordo male si chiamava appunto così, siamo pronti per continuare l'esplorazione delle prossime rovine. Ah, Alistia, ok. Dopo esserci fermati sul pianeta di Alistia e aver completato quelli che erano per l'appunto gli eventi che ci hanno intrappolato, tra virgolette, adesso possiamo andare su Zerard, perché su Zerard avremo la seconda rovina da esplorare. Vabbè, ovviamente questi filmati li possiamo saltare. Tanto sono semplicemente le transizioni che ci fanno viaggiare da un pianeta all'altro, quindi non ci interessano, non ci interessano completamente. Allora, teleport nella zona più vicina ovviamente, vediamo dove effettivamente è la zona più vicina. Ah, ok, quindi dove c'è praticamente la gilda, la gilda galattica, l'ottimo. No, dov'è andare al contrario. Beh, nel frattempo non avrei tantissime cose da dire, io non so quando verranno caricherati questi video, quindi effettivamente non so cosa sta succedendo nel frattempo nel mio canale, se è ancora vivo il mio canale, o se addirittura già è stato chiuso per chissà quale motivo, per cui non lo so. Allora, ponti per le torri Gladius. Ok, ci siamo. Questa è tutta zona nuova, quindi devo esplorare, assolutamente. E poi magari faccio un piccolo taglio, giusto per potermi concentrare nell'esplorazione. E poi ovviamente ci vediamo nel momento in cui c'è qualcosa che devo comunicarvi o farvi vedere in base. Però per il momento andiamo a vedere cosa c'è. Beh, già vedo una sorta di blocco. E la cosa sinceramente non mi piace. Forse da qui non possiamo entrare, possiamo entrare solo dall'altro lato. Adesso lo vedremo meglio. Magari. C'è qualche filmato, qualcosa. Io ricordo veramente, veramente poco. Però a quanto pare qui è bloccato. E non credo che si possa passare, giusto? C'è qualche blocco elettronico. Probabilmente l'ho messo da Lungardia e la truppe, e sembra come il nuovo modello. È davvero sicuro. Mi credo che solo un supercomputer potrebbe uscire. So, questa torre è così importante per loro. Eh, posso provare? Io potrei poterlo uscire. C'è sicura? Lascia con me. Hmm, questo utilizza la nuova tecnologia. Ci siamo davanti con clienti tricolosi, in realtà. no good unfortunately not guess I'll have to pull out all the stops if I put my brain circuits on full burst we might be able to get somewhere full burst? yes when I activate my full burst mode it allows me to increase my processing power to 150% I'm sure Dr. Picaccio will switch me over if we ask him looks like that's our only option, Jaster yeah let's get Dr. Picaccio help full burst mode? are you insane? it's only for a short while, doctor if I could just take down that barrier forget it, the damage to your emotional circuits would be too great can't you do something? you're the only option we have in any case I can't make this decision by myself wait here a moment this way, Steve huh? all right he can't make it himself then whose decision is it? are you sure about this, Mark? I'm with Steve on this one, dad I want to go on lots more adventures but if this doesn't go well there's a likely chance that you might disappear forever and if that were to happen dad, I want to help Jaster and his friends Mark they're really great people they're Steve's good friends every one of them and that makes them my good friends too friends friends, huh? I see you've made new friends I'm so glad, Mark I was hoping you would I've removed the burst mode limiter from Steve's central processing unit when Steve goes into burst mode he'll be as powerful as the Galaxy Corporation's latest and greatest supercomputers here take this with you with this switch you will be able to activate Steve's burst mode Dr. Picacho thank you for listening to my selfish demands I should be the one thanking you Steve now you should get going your adventure is far from over eh, era stato bello essere mandati direttamente dal dottore ma diciamo che ritornare indietro non è la cosa più figa eh, allora ritorniamo alla gilda ok questa volta però facciamo il giro dall'altro lato vediamo se anche l'altra porta in realtà è bloccata eh, come questa cioè come quella che abbiamo appena visto in modo tale da non avere dubbi e comunque proseguire in un'unica direzione che poi ovviamente mi permette di fare tutto quello che mi interessa come team probabilmente lascio quello che ho ancora adesso visto che devono ancora maxare le proprie armi eh, però penso che durante l'esplorazione molto probabilmente cambierò team quindi probabilmente adesso vedrete questo e magari dopo a fine video o comunque a fine episodio o in generale a fine diciamo fine interruzione tra virgolette che farò sicuramente per eh, sicuramente per livellare vedrete sicuramente un altro team con altri personaggi che ovviamente devono eh, maxare le loro armi di cui Zegram molto probabilmente Kisala probabilmente farò loro quindi vediamo un po' quello che succede vediamo vediamo chi ho intenzione ah ecco vedi si deve utilizzare qui ok per rimuovere questa barriera ok noi già sappiamo cosa dobbiamo utilizzare ok se ci stiamo troppo molto Daytron sarà con noi vabbiamo questa barriera fuori fuori sei in un buon mood tutto grazie a Dr. Piccaccio you you did it that Picccio is a genius sure can't take him for granted you absolutely right let's keep going perfetto quindi possiamo cominciare la nostra esplorazione wow torre 1 ok quindi possibilmente è possibile esplorare entrambe le torri qua devo controllare i forzieri devo controllare tutto sarà un casino this place looks pretty shady I'm looking forward to seeing those ruins though look mister rogue what is this heroes hark wow a sword supposed to talk like that there's a soul within that sword I speak of the valor of the Libra King I have waited for you across the eternal ages I believe that you may be the ones who can finally quell the turmoil in this cursed castle I am the Libra King I am the lord of this castle oh brave and valiant travelers do me the honor of listening to my request a request what is it the tortured souls of my sons wander these two towers they have continued their pointless quarrel over these many long years not even noticing as their bodies crumble to dust please help bring peace back to these two towers wait take a look at that che tra l'altro questa spada dovrebbe essere una delle sette spade degli astri se non erro quindi diciamo una delle armi finali tra virgolette ok quindi dovremmo esplorare entrambe le torri vediamo chi che ci sta spiando eh Zagram infame just as you they've managed to dupe the Libra King we should just let him go for now right yes might as well leave the dirty work to the dirty workers don't you think oh quindi Zagram collabora col nemico eh 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 allora vediamo questa spada innanzitutto di re Libra come è combinata perché in realtà livello 30 diciamo che non è il top certo dovremmo maxarla poi quindi magari questa potrebbe essere l'occasione giusta per maxarla però vediamo eh allora facciamo una cosa innanzitutto facciamo un bel analizza per vedere come siamo combinati allora vabbè queste due spade ancora non le posso equipaggiare eh questa l'ho già maxata questa è la copia che sto tenendo al momento per maxarla ancora una volta eh grande A delle legislatrici no queste ancora non le posso unire perché non mi pare il caso va bene ok allora direi che per il momento possiamo andare avanti così per quanto riguarda le armi potrei in realtà sono a livello 42 ah sì sono già l'iole 42 quindi posso equipaggiare questa no vabbè ma l'equipaggeremo dopo eh allora mettiamo la spada di re libra così iniziamo a maxare quella per ora ok qui nel frattempo ecco questo è già maxato quindi adesso mettiamo questo così la possiamo maxare tu invece ok qui invece ancora stai maxando l'equipaggiamento perfetto allora io direi che per il momento inizio a fare un po' di esplorazione qualora dovesse esserci qualcosa di interessante riprenderlo alla registrazione quindi ci vediamo tra pochissimo un po' di esplorazione What the? What's going on? Come on, Jaster. It's me! No way. Is that really you? Burton? Of course it's me! Can't you tell? How could I? What happened? A beast got me while I was exploring, and the next thing I knew, there I was, like this! You turned into a spirit? Don't you mind? Oh, no. This is so much better. Now that I'm a spirit, it's a cinch to find out all sorts of things about the past. I must say, it's quite a pleasant surprise. Oops. Can't hang around like this. I've got a lot more research to do. See you later, folks! Hey, Burton, wait! See you later? Talk about happy-go-lucky. Ok, ragazzi. Ho esplorato, diciamo, tutta la torre. Infatti, siamo arrivati nella sala del trono. Qui sicuramente... Non lo immaginavo. Ci sarà probabilmente un boss. Vedremo. Esatto, uno dei due fratelli. E vedremo un po' che cosa succederà. No, 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 no. The Libra King is no longer of this world. But neither are you. You've been dead for a long time. Your obsession with the throne prevents you from moving on. All you are now is a phantom, cursed to haunt this tower for eternity. Huh. Don't be absurd. Fine. Then take a look at this. What? That's my father's sword. Where did you get it? Oh, I see now. Logan went so far as to use father's name in his little scheme. An unforgivable folly. Horns of Logan. I shall bury you all. In the name of the king. Dammit. It just won't listen to reason. This is simply rivalry. I'm not out of trouble. I'm empty. Dammit. It just won't listen to reason. Everyone all right? Well, that's a help. Thanks. This is not good. How are they so strong? Well, that's a help. Thanks. Grazie a tutti 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 youtube ed essendo in questo caso anche un creatore ho deciso di accontentare anche un po' quelle che sono le mie esigenze di spettatore solitamente non mi sarebbe piaciuto aspettare per vedere diciamo la stessa cosa tecnicamente no perché se parliamo comunque di un'esplorazione di una torre che è praticamente identica cambia soltanto il colore delle porte sinceramente aspettare comunque uno barra due giorni in base alla cadenza con la quale farò uscire questi episodi sinceramente non mi sembrava il top dal mio punto di vista creativo per cui ho detto sai che facciamo facciamo più tagli e cuci cioè nel senso tagliamo più più roba mettiamo lasciamo meno roba e quindi ho la possibilità successivamente di creare un episodio unico dove appunto faccio entrambe le torri e quindi diciamo completo direttamente il pianeta in fin dei conti le puntate ci saranno comunque ci saranno anche diverse puntate extra dove avrò la possibilità anche di farvi vedere tanti piccoli trucchi e segreti del gioco poi ci sarà probabilmente anche tutta la serie dedicata agli insectron anche se in realtà non ne sono convinto non ne sono convinto al cento per cento però si probabilmente farò anche quella cosa cioè dell'insectron per per ovviamente tutti quanti ho tagliato qualche clip l'ho inserita nel mentre stavo appunto esplorando come quelle che avete visto di intermezzo anche con le piccole boss fight di diciamo di intermezzo per cui direi che come lavoro mi sento abbastanza soddisfatto e ora registro quest'ultima parte tutta in una volta per dare un po più di lunghezza all'episodio e fare comunque un'unica diciamo un'unica puntata ecco il mio obiettivo era quello di fare un'unica puntata cioè devo fare un po' di rifornimento per quanto riguarda per quanto riguarda le mie scorte di di rinascite perché ne ho finite tutte non pensavo di poterla di poterle finire tutte aspetta senza subire danni però forse le ho subiti spero di no attenzione cacchio la mia barra non è attiva facciamo attenzione perché questi zombie qua guarda come lanciano la cosa che un po' mi dispiace è il fatto che in realtà non possano sparare cioè che non è un po' un peccato però ok adesso il problema è trovare la strada giusta però perché ok trovare trovare gli oggetti mi piace perché così mi facilita il lavoro dopo perché anche se trovo tutti i teleport poi devo andarmi a ricercare devo andarmi a ricercare tutti tutti i forzieri quindi invece così diciamo perdo un po' meno tempo anche se io non capisco come fanno sempre sti mostri a levarmi un casino di hp nonostante tutto io ho un problema di fondo qui adesso che devo scappare perché non ho più non ho più le rinascita quindi per il momento sono costretto a saltare gli scontri anche per sbrigarmi nella puntata a dire la verità però proprio perché non ho la possibilità di curarmi non ho la possibilità di fare nulla devo assolutamente schippare i combattimenti anche se tanto adesso farò un piccolo teleport possibilmente farò un taglio nella registrazione andrò a fare scorta nuovamente di rinascita e poi successivamente ritornerò a completare appunto sta torre perché devo poi completarla quindi andiamo a cercare subito quello che dovrebbe essere in realtà l'ultimo teleport in teoria dovrebbe essere l'ultimo teleport di questa torre e di tutto il pianeta in modo tale da potermi sbloccare la possibilità di vedere i forzieri e poi vedo il da farsi qua purtroppo dobbiamo schippare andiamo a schippare a velocità supersonica però non è un problema perché comunque le armi già le ho potenziate quelle che mi interessavano da potenziare le ho potenziate le ho maxate quindi non c'è assolutamente problema anzi sono messo molto bene ne ho maxate diverse già e ne ho anche combinate per fare armi comunque di livello 40 e anche superiore visto che ormai stiamo toccando più o meno il livello 40 diciamo il livello 45 con Jaster e con gli altri qualcosina in meno quindi va assolutamente bene così oh 5 rinascite benissimo queste mi saranno utili per fare qualche combattimento in più ottimo ottimo, ottimo davvero allora qui possiamo combattere perché tanto abbiamo le rinascite se si può succedere però è stupido utilizzarle subito quindi curiamo tutti all'attacco cos'era? all'attacco userei automaticamente pozioni curative e altri oggetti di battaglia assicuro di averne una buona scorta ah va bene allora meglio perché ogni volta non devo chiedere esatto perché di così ogni volta non mi devono chiedere il problema nice tanto di pozioni cose ce le ho quindi non è un problema ho maxato anche il macete di lilica ok allora è l'occasione giusta per creare uno nuovo quindi andiamo dalla nostra ranocchia facciamo unire questo di livello 31 e questo di livello 32 non sto seguendo le ricette tradizionali in questo momento ma vi spiegherò il perché successivamente livello 41 drago scintillante avete visto? che figata ah queste le ho maxate pure per juts ok allora uniamole così mi porto un po' avanti con il crafting ok santuario 32 non un gran che però ok 28 con 24 eheh infatti ho ottenuto lo stesso arco esatto però potenziato versione S ok eheh non è un problema questo eheh queste due ancora non le posso unire perché comunque non sono a livello 45 appena arrivo al 45 equipaggio questa per jaster ovvero l'indemoniata eheh e poi avrò appunto la possibilità di di poter craftare qualcosa di meglio ok quindi per ora possiamo uscire mettiamo prima l'equipaggiamento così non abbiamo problemi ah ma jaster è già 45 uuuu attenzione signori vedremo in diretta la nuova arma che crafterò per jaster allora eheh si 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 la voglio craftare subito sono davvero davvero curioso vai no eheh si devo mettere devo mettere si perché mi dice giustamente creerò un'arma che jaster non può equipaggiare al momento però io già ce l'ho l'arma giusta quindi va bene poffete che è livello 47 purificatrice ottimo 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 eheh poi l'arco equipaggiato da chi sa l'adesso è questo ok quindi vabbè potrei equipaggiare questo anche dopo non è un problema va bene eheh poi possiedo giupis con me che al momento possiede questa e poi a queste due da poter utilizzare ok quindi va benissimo anche se in realtà non l'ho cambiata adesso giupis quindi oh potenzia pv livello 2 ottimo colpo infuocato livello 2 così finalmente lo possiede anche lui ok adesso tutti quanti dovrebbero possedere il colpo infuocato livello 2 quindi questa è già una cosa ottima dal punto di vista organizzativo qua addirittura guarda possiede tutto c'è tranne il quadrifoglio ma vabbè olè ci siamo allora andiamo siamo ormai siamo ormai in dirittura d'arrivo ormai ci siamo manca veramente veramente poco qui probabilmente c'è un forziere esatto e lì esatto dovrebbe essere tecnicamente l'ultimo teleport di questo pianeta ottimo il fluido rigenerante dovrebbe essere l'ultimo teleport lo vedremo subito che appena fa che ci dice appunto la che ci dice che abbiamo sbloccato la possibilità di vedere i tesori diciamo che quello è il nostro ultimo teleport del pianeta comodissima sta cosa che utilizzano subito gli oggetti così non devo ogni volta aspettare tanto io faccio sempre scorta poi quindi non ho un problema no non è l'ultimo teleport wow allora scambiamo i punti ho fatto un botto di punti in questo periodo infatti sono scalato di classifica in una maniera pazzesca sono arrivato addirittura al grado 76 assurdo ok quindi piano 7 che dovrebbe essere l'ultimo comunque andiamo vicino alla bottega così ci facciamo scorta e andiamo ad affrontare anche quest'altro boss e poi e poi posso staccare no 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 vai via tu già me l'hai data ah non è questa la porta è quella sopra sì perché quello dà comunque una ricetta visto che ha la testa illuminata di azzurro ok compriamo pozione curativa facciamo il pieno quindi dovrebbe essere 13 linfa vitale non ce ne sono più rinascite dovrebbero essere 25 ok e poi non abbiamo più nulla le linfa vitale le ho prese quelle le ho prese quindi quindi va bene torre numero 2 piano 7 se non sbaglio era la torre numero 2 la torre numero 1 no mi sa che era la torre numero 1 sì ero qua alla torre 1 perché la torre 2 tecnicamente ci siamo arrivati prima allora salviamo ovviamente visto che ormai sto facendo tutto in diretta e se non sbaglio adesso dovrei arrivare alla sala del trono giusto dove mi aspetta l'altro fratello ci ho azzeccato la torre altrimenti devo fare sì esatto e questa è l'altra sala del trono perché ovviamente il pavimento è diverso che è andato qui va qui va qui va qui va io è Jaster siamo qui qui con la ordine del reno per favore su us us ah è 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 Cosa mi ha detto di fare ora? Sto facendo un lavoro bravo con i miei regali, grazie. Non lo vedete? Guardate bene, non sei più umano. Che tipo di king è questo? Il Libra King mi ha messo qui per provare a te capire. Cosa stai parlando? Cosa stai parlando? Oh, vedo cosa stai parlando. Credo che mio frate Gazelle ti ha messo in questo. Non, per favore, mi ha detto. Hai avuto la possibilità. Pawns di Gazelle. Il vostro cammino finisce qui. Preparatevi! Per favore, per favore. C'è questo punto. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti